yeah live from the hush house where else look new amsterdam blended with the pd like take a picture if you see me tonight it'll be work that I told I'm blowing up she ain't believing the height thought she was small she's thinking that it's like a pd and we go to the a-b the gigante post E' la scena con la brezza. Tira il pallone, tira l'ambile. Ho visto un MNG che è una bestia su tutta nesta. Bene, posso toccare? Questa è la sua che vince. Ecco perché è pianta la leonessa. La scoperta del secolo, sì. Piena di leoni. Perché è Brescia e la leonessa d'Italia. Andiamo al castello. Andiamo al castello, dai volentieri. Il castello uguale scale. Prima io ho palleggiato sulle scale. Adesso non riuscirò più a farlo però. Ci proviamo signori perché qui abbiamo... Abbiamo... No! Hai capito quindi Cami dove siamo? Quasi. 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 Questa. indizia. Vabbè ragazzi avete capito dove siamo vero? Siamo a Brescia. Ci vediamo domani. Ragazzi è la mattina del grande giorno della Supercoppa. Andiamo a vedere chi si sta allenando. Che figata. Ragazzi adesso vi porto a conoscere uno dei giocatori che insomma sarà protagonista di questa fruccia rossa. Venite con me come al solito. Io ormai vi faccio la guida in questo palazzetto. Andiamo un po' a vedere cosa ci racconterà. Adesso sono facendo gli allenamenti quindi... è la situazione carica, bella tesa. Hai avuto un'estate un po' emozionante, un po' particolare diciamolo. Sei finalmente tornato a casa dopo nove anni. Sì dopo nove anni sono tornato a casa a vedere la mia famiglia. Questi nove anni ho fatto di tutto per fare realizzare certi sogni che ho avuto fin da bambino. Vedere e abbracciare tua madre è una cosa speciale, una cosa unica. Come è stato il tuo summer? Come sono i freddi? È stato molto bello. Ho spavuto il tempo a casa con la mia famiglia. Ho rilassato, ho avuto il bello buono. Ho spavuto il mio figlio e ho avuto il mio figlio. Ho spavuto il mio figlio e i miei due figli. Ho avuto il mio figlio. È stato molto bello sempre stare con loro prima di venire qui e andare a lavoro. Ti chiedo, quanto sarà strano conoscere, cioè vedere sul campo quelli che sono stati poi i tuoi amici, i tuoi compagni questa volta ad avversari in campionato? Sì sicuramente non sarà facile. Abbiamo condiviso comunque tanti giorni, tante emozioni. Purtroppo non è andata benissimo la fine, però insomma ci teniamo il viaggio, ci teniamo tutto quello che abbiamo costruito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla cosa fai con la faccia? Vabbè ma è finita, è finita tutto. Ma non è finito niente, c'è la prima di campionato. Beh, è vero. Bye! Bye! Let's go! Grazie a tutti.